Allora amici di Viaggiando in Campo siamo di nuovo in diretta Buon pomeriggio Siamo insieme all'amico Paolo Uccello che adesso vi spiegherà tutto quello che c'è in questo museo a Canicattini Bagni che è una cosa particolarissima noi già l'abbiamo visitato ma vi faremo vedere pochissimo perché dovete venire a vederlo adesso giro la camera e Paolo ci spiegherà quello che potete vedere qui Allora, cosa ci hai fatto vedere? Parla tu perché io con la tosse proprio Allora intanto abbiamo visto la prima sezione è quella dedicata alla medicina uvolare per cui chi viene a Canicattini avrà un'idea di quella che era la tradizione legata all'aromatete ma non solo, ai guaritori e alle guaritrici e alle maiare perché indubbiamente questa è una tradizione molto bella che ancora oggi poi suscita interesse io infatti faccio ancora tantissime conferenze su streghe e guaritori in effetti nella medicina uvolare siciliana c'erano intanto c'era per esempio Uccearaulo che erano coloro che nascevano la notte del 25 gennaio e che guarivano dai morsi dei serpetti dicendo San Paolo mancerà a Dauro spina pungente non mozzegara a mia e manca a niente poi erano anche un po' costronzi scusate e dicevano Santo Paolo, Santo Paolo non fare mozzegara a mia che ha sui figli di Maria fa mozzegara a io che io rio ecco Scusa Paolo se ti interrompo siccome c'è Fulvio dove sta Fulvio? Bonza Bonza Fulvio poi noi ti traduciamo dopo tranquillo non ti preoccupare Praticamente si esaltava il serpente velenoso di non mordere noi perché eravamo figli di Maria ma mordere chi? I giudei purtroppo I giudei purtroppo E poi naturalmente parliamo anche di guaritori che rientrano nella tradizione uvolare siciliana pensate per esempio voi siete catanesi pensate a Leo Gullotta una delle espressioni di via di Leo Gullotta è dire che da ballo che viene sopra la patata perché un tempo i guaritori portavano le persone malate nelle sorgenti sacre ci mettiavano l'ereo vero signore cioè il timo, il sopo e la sabbia poi ci giannavano che i piedi sopra la panza ricendo un signoruzzo come noi e un ne camminava tutto questo e sanava Sant'Antonio lo potente e Gesù lo ne potente e comunque abbiamo ripreso tante di quelle medicine come per esempio la peccata che ha lasciato il modo di dire nel dialetto siciliano quando uno c'è carnicosi di mano si è una peccata che si faceva con il grasso animale si faceva con il grasso di maiale appunto quindi poi dalla sezione della medicina popolare si sale all'emigrazione che è una sezione molto bella e sicuramente molto attuale con cui raccontiamo tramite lettere di emigranti ma anche oggetti abbiamo visto un sacco di oggetti la storia dell'emigrazione siciliana verso soprattutto l'America ma non solo e spieghiamo anche che in effetti le prime emigrazioni non furono nel Nord America ma furono soprattutto in Tunisia e in Egitto e infine poi c'è la sezione del tessuto quindi possono vedere dai tessuti più pregiati come il bisso ai tessuti più poveri fatti con le fibre più povere e un'altra cosa che facciamo al museo ci permettiamo diciamo abbiamo il piacere di avere una cucina adesso siamo nella cucina ora facciamo vedere mentre voi parlate io mi giro così ecco c'è il cesto con tutti gli aromi che si usano in cucina perfetto e qui facciamo i laboratori facciamo i laboratori di tintura naturale laboratori di pittura i quadri che si vedono in alto sono tinti con piante pintore laboratori di carta pesta preparo le mie medicine e poi panificazioni, dolci e poi voglio dire naturalmente e poi tutte le domeniche facciamo l'escursione la mattina ci potete seguire sulla pagina facebook del museo oppure Pobrino Uccello e si fa l'escursione e poi si fa la si fa la cosa tipica naturalmente si fanno diciamo la degustazione dei prodotti della tradizione come? la scuola la scuola la scuola e man mano sinceramente la parte di Salvo che ci ha accompagnato in giro per il museo quindi ci vuole ovviamente ecco la cosa più importante a cui teniamo particolarmente è che abbiamo avuto l'onore il piacere la gioia di avere avuto affidata dalla regione siciliana perché abbiamo vinto un bando è la scuola degli antichi mestieri quindi chi viene a Canicattini potrà avere anche la possibilità di partecipare a corsi appunto che non si fanno più dalla tessitura all'apicultura all'intreccio delle fibre alla fitopreparazione alla panificazione ai dolci tipici alla cucina tipica sono 12 corsi per tutti i corsi per tutti i corsi allo scalpellino all'apicultore insomma tantissimi motivi per venire a Canicattini per vedere questa splendida cittadina il museo la crista e quindi chi viene può tranquillamente chiedere informazioni per avere delle guide come è chiaro che ha avuto noi d'eccezione Paolino Uccello oppure anche Salvatore che ci accompagnano ma poi ci sono le escursioni nella zona di Pantalica se non erano tutte le domeniche se ci seguono nella pagina del museo oppure nella mia pagina possono passare la dici qual è la pagina del museo così ti ricordi il museo del tessuto il museo del tessuto casa dell'emigrante o Paolino Uccello perfetto così abbiamo anche questa indicazione ormai avete tutte le indicazioni Maria Sennissima Bella Maria Sennissima Bella grazie a voi grazie Paolo grazie Salvo siete state gentilissimi continuate così perché la nostra terra ha bisogno di essere valorizzata come fate voi bisogno di suddistiche bisogno di persone come noi bisogno di suddistiche grazie amici buona strada buona strada a tutti ciao